Traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna e l'Italia. Con questa accusa un latitante 51enne residente nel milanese è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa del nord di Verbagna in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal Tribunale nel 2021. Il provvedimento restrittivo era scaturito dalle indagini dei carabinieri che nel 2021 avevano documentato un ingente traffico di stupefacenti tra la Spagna e l'Italia, nonché una notevole attività di spaccio sul territorio. Erano stati identificati oltre 60 acquirenti di droga, poi segnalati all'autorità amministrativa e i militari avevano raccolto prove di oltre 15 kg di sostanze stupefacenti di vario tipo. Nell'agosto 2021 i carabinieri, ricevuta l'ordinanza di custodia cautelare dal Tribunale, avevano proceduto a rintracciare e arrestare gli indagati, riuscendo a trovarne quattro, tra cui tre verbanesi, mentre uno dei destinatari del provvedimento era risultato irreperibile sul territorio nazionale. Due giorni fa i carabinieri hanno accertato la presenza del ricercato che, rientrato nel frattempo in Italia, era stato arrestato per un'altra causa e si trovava in carcere a Pavia. Così, nella giornata di ieri, lo hanno raggiunto in carcere e gli hanno notificato il provvedimento restrittivo, traendolo in arresto con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti, continuato e in concorso con gli altri soggetti già arrestati. L'arresto di oggi si inserisce nell'ambito dell'indagine del nord della compagnia di Verbagna, chiamata Spidi Canapa, avviata nel 2020 nei confronti di un sodalizio incentrato su una famiglia del Verbano. Nel corso dell'indagine i carabinieri, in un'occasione, avevano proceduto anche all'arresto in flagranza di una donna che, da sola a bordo di un'auto di piccola cilindrata, aveva trasportato circa 10 chili dalla Spagna, venendo fermata e arrestata al valico di Ventimiglia dai carabinieri di Verbagna insieme ai colleghi del posto. Con l'ultimo arresto si chiude così il cerchio dell'indagine Spidi Canapa, poiché tutti gli indagati sono stati assicurati alla giustizia in attesa del processo.